ciao in questo video faremo tutti i passaggi per imparare il salto del montone allora partiamo scaldando bene la schiena quindi sdraiata a terra un esercizio semplice in spinta sulle braccia e molleggio un po gambe rilassate adesso in questa fase ok date un po sul braccio destro sinistro ok ci siamo va bene sdraiati a terra braccia in avanti cercate di lasciare i piedi a terra al mio via porto le braccia in fuori e sollevo il petto via ok la testa va dietro cercate di andare a guardare le punte dei piedi via ok le braccia fanno per fuori e rimangono in alto via ok ancora e ritornano avanti benissimo secondo passaggio in appoggio come quando eravate prima vi stavate scaldando la schiena questa volta gambe unite il bacino spinge verso il pavimento piego le gambe e cerco di andare a toccare la testa bravo 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 bacino mi raccomando che spinge verso il basso prova invece a non spingere verso il basso ok così è sbagliato ok ma viene però quando pieghi le gambe di fare così invece tu spingi il bacino avanti ancora una volta con le ginocchia strette cerco di toccare le punte dei piedi bravo ok stop adesso lo facciamo completo quindi sia le braccia sia le gambe si flettono le gambe si flettono le braccia fanno l'esercizio che avete fatto prima via e ritorno via e ritorno attenzione che nel salto del montone le ginocchia sono strette in volo quindi cercate di tenere le ginocchia strette quando fate questo esercizio via ok via e stop bravissime altro passaggio noi utilizziamo un tappeto ma potete utilizzare anche un tavolo qualcosa che l'importante è che avete le braccia quasi all'altezza delle spalle spinta delle gambe e simuliamo solo la seconda parte quindi la parte sotto piego le gambe arco la schiena cerco di toccare i piedi sulla testa va bene non aprire le ginocchia importante ok quindi andando in appoggio sulle braccia vi aiutate e piegare le gambe quasi per toccare la testa brava tieni le ginocchia strette ok vai leti brava ottimo ok dopo aver fatto tante volte questi esercizi siamo pronti per fare il salto allora si parte con le braccia in fuori fammi solo il lavoro delle braccia fuori basso alto quindi bene alle orecchie leggermente aperte prova solo simula le braccia hop fermati lì esatto la schiena d'arco la testa è rovesciata e le braccia sono leggermente aperte ok perfetto lo facciamo completo va bene attenta dopo che hai saltato non portare i piedi avanti ma hai saltato lascia i piedi indietro per fare l'arrivo esatto ancora una volta brava fede emma allora anche tu solo le braccia brava brava ancora una volta ok adesso queste braccia più l'esercizio del tappeto facciamo il montone bene attenta che stai squadrando quando fai l'arrivo invece lasci i piedini indietro brava brava non squadrare piedi indietro tocco la testa e lascia brava piega le gambe però ok letti solo le braccia ok ancora brava adesso queste braccia con le gambe via via bene brava li vedi i piedi li senti va bene ciao